Ciao a tutti, mamma mia che outfit orrendo, meglio chiudere quale vergogne. Eccoci qui con la nuova puntata dei tre dischi adatti per... Ma quanto tempo è che non faccio un video del genere? Direi che è una rubrica che mi piace molto, è una delle mie più sfigate. Però si sa mai che l'amore di San Valentino, che sa Propinqua, possa in qualche modo scaldare anche il vostro cuoricino e farvi entrare della buona musica. Infatti questa nuova puntata dei tre dischi adatti per, che non sono esattamente tre, sono un po' di più, però è perché alcuni dischi li ho già consigliati, ne ho già parlato, ma che secondo me andavano ribaditi perché adeguati a questo contesto. Allora ne ho deciso di consigliarne un paio che non ho mai nominato, perché questa puntata riguarda i tre dischi adatti per San Valentino. Quindi, se siete in crisi di coppia, vi salvo il San Valentino. Se siete una coppia felice, limoni assicurati con questi dischi in sottofondo. Se siete single, regalatelo alla persona che vi piace e troverete l'amore perché non potrà dirvi no. E se siete single ma non ve ne frega niente di una storia seria, ascoltate Buona Musica, in sostanza. Iniziamo subito. Allora, artista che io ho già ribadito mille, mille volte perché è la mia prefe, Bjork. Bjork di cui vi consiglio due album. Allora, il primo, Omogenic, che in realtà è un disco un pochino più rischioso perché è un concept album sull'amore, se vogliamo. Tuttavia, Bjork, durante i dieci pezzi tutti magnifici, cioè brani come All is Full of Love, Bachelorette, cioè Ciaone. Ah, vi ricordo che i titoli album e link per ascoltare ed eventualmente comprare, se siete brave persone e volete regalare un disco, fate bene. Meglio se in vinile, però è un ottimo regalo di San Valentino regalare della musica. E quindi, meno male che ci sono io che consiglio roba. Comunque, Omogenic, dicevo, album capolavoro ma rischioso da ascoltare a San Valentino perché è un concept sull'amore, contiene alcune delle canzoni più belle d'amore della storia della musica, tra cui Yoga, Ciaone. Però, appunto, essendo un concept sull'amore, Bjork vuole anche concentrarsi sulla fine di una relazione in alcuni brani. Quindi il mood dell'album è molto lunatico, molto altelenante, quindi si passa da, oh mio Dio ti amerò per tutta la vita, a se è un bastardo ti odio, nel giro di una canzone. E quindi è una cavalcata tra i sentimenti, un po' così. Quindi ci sono dei pezzi che dedicati fanno la loro porca figura, però, appunto, da ascoltare interamente a San Valentino, I Don't Really Know. In caso c'è, sempre di Bjork, Vespertin. Il suo album successivo a Omogenic, se non consideriamo Selma Songs, che in realtà è una colonna sonora per Dancer in the Dark, Vespertin è un'altra sorta di concept, in realtà sull'affetto familiare, oltre che sull'amore. Però, rispetto a Omogenic, è un disco molto più ottimista riguardo al sentimento dell'amore, in quanto l'ha scritto quando la cantante si era appena innamorata del suo compagno storico, oramai non stanno più assieme, però stati insieme molti anni, Matthew Barney. E quindi ci sono dei pezzi in cui l'autrice affronta l'amore in tutte le sue sfaccettature, anche a livello carnale e sessuale. Ci sono dei pezzi in cui lei tratta di sesso in modo molto sfacciato, però la differenza è che rispetto a molte altre artiste che trattano di sesso, Bjork non è mai volgare, è sempre molto poetica. Ad esempio, un pezzo di quest'album, Cocoon, che parla realmente dell'atto di fare sesso, lei lo fa attraverso delle metafore molto poetiche, auliche, strepitoso. E in un altro pezzo lei tratta della fellazio, quindi comunque tratta anche di sesso vero e proprio. Però sempre con pacatezza, con poesia, con una grande sensibilità. E questo la rende, oltre che per altri aspetti, banalmente quello musicale, perché secondo me lei è un genio, anche dal punto di vista lirico, la rendono sicuramente un'artista unica e assolutamente da ascoltare. Poi c'è molta gente a cui non piace, però secondo me è la best in the world. E il secondo disco che vi consiglio, cioè in realtà il terzo, però vabbè, di un altro artista, diciamo, Tom Waits. Ve ne ho già parlato, io adoro Tom Waits. È uno dei miei cantautori preferiti. Lui è molto incline al blues, in alcuni dischi al jazz. Lui evoca subito queste storie di amori tormentati, di pub ricoperti dal fumo, da litri di vino, whisky. Tu ascolti un disco di Tom Waits e ti catapulti in queste bettole, no? Dove c'è il pianista che suona, con la tizia scosciata sul pianoforte a coda, ed è tutto cupo, però con grande, con grande sentimento. E io vi consiglio Blue Valentine, un disco bellissimo, dominato anche da una certa dose di malinconia, però secondo me, in sottofondo, fa la sua porca figura. Quindi Blue Valentine. Altro disco fortemente lacrimoso, I'm a Bird Now, di Anthony and the Johnsons. Anthony and the Johnsons, vabbè, è un gruppo capitanato, appunto, da Anthony e Garthy, una voce indimenticabile, una voce che sicuramente è riconoscibile al primo orecchio, in sostanza. I dischi successivi degli Anthony and the Johnsons, e anche quello di Anoni, questo è il progetto solista di Anthony e Garthy, non mi hanno mai convinto come questo album, che io invece vi reputo come la vetta, no? Sono dieci pezzi bellissimi, struggenti, malinconici, pieni di sensazioni. Si parla di un chamber, un tipo di pop chiamato chamber pop, ovvero ballatone al piano, con l'orchestra, quindi struggenti, emozioni, mamma mia! Quindi o limoni duri, o lacrime amarissime, quindi a vostro rischio e pericolo. Comunque grande struggimento e grande disco. I due bonus che vi consiglio sono, uno è il Greatest Eats di Kate Bush, che è The Whole Story, ed è una raccolta dei successi della cantante inglese. Vabbè, Wuthering Heights in pista, ma anche gli altri pezzi, secondo me, si adattano bene a creare un'atmosfera di grande, grande amore e grande confronto tra partners. Veramente, lei è unica, e il Greatest Eats è forse un ottimo approccio iniziale, nel caso non conoscesse l'autrice, perché racchiude appunto i successi principali. Magari alcuni li conoscerete pure, perché sono pezzi molto famosi. I suoi album, che io vi consiglio perché sono pazzeschi, molto spesso invece si prendono anche una certa libertà nelle sperimentazioni, e quindi al primo ascolto non sono dei pezzi così immediati. Però comunque, lei è sempre geniale, raramente ha fatto cose sotto la media. L'altro disco che vi consiglio come bonus è un disco jazz, perché il jazz crea sempre quest'atmosfera meravigliosa, quando si è in intimità, in coppia, con un bel vinello, con una cena a lume di candela. Per quanto io sia un appassionato di Free Jets, che il Free Jets è un po' più avant-garde, è un po' più spericolato, un po' più dissonante, e quindi anche di quest'autore, Miles Davis, forse il capo del Jets, insieme a Coltrane, John Coltrane, Duke Ellington, vabbè anche Nina Simone, però Miles Davis, proprio quando pensi al jazz, non puoi che pensare a lui. Ha fatto dei dischi che io amo molto più di questo, che vi consiglio, che è Kind of Blue, ma ad esempio Beaches Brew, che secondo me è ancora più fico, è comunque troppo spericolato. Kind of Blue invece è jazz, un po' più tradizionale, e quindi, però comunque bellissimo, e quindi può aiutarvi a creare un'atmosfera magica durante il vostro appuntamento. E niente, questi sono i miei consigli musicali, fatemi sapere se, nel caso li avete adottati, come sono andati, avete ottenuto un bacio all'ascolto di queste melodie, fatemelo sapere. Io vi saluto, vi bacio tutti, e alla prossima. Ciao ciao!